da mandato soli 8 la sera e siamo stati al comune che stanno ancora la votazione fino alle 11 stasera fino a ora 298 votanti per l'elezione dell'usinneca ricordiamo che stiamo fuori la chiesa ricordiamo che stanno tre liste in campo lista civica per mandato con Mauro d'Alessandro candidato un punto per il futuro con Marcello Zecchini candidato e impegno per mandato con Angela Restieri candidato alle 11 si chiude l'usinneca poi ci vuole un po' di tempo per fare lo spoglio delle schede insomma verso le due e mezza alla notte ovviamente sopra mandato.com trovate tutti i risultati e tutto quello che è successo una piccola curiosità fino a mezz'oretta fa mandato e richiede zanzaro quindi era una occasione pure a camminare per il vitro paese come vedete c'è stagione un po' di nuvole in cielo a chiopta un po' ma ora l'aria è fresca ma ora non c'è solo 8 come avevamo detto da Michele Pille da mandato qua stima la ciazza che stagione praticamente a rete alla comune per ora è tutto